Buongiorno, sono Diana Tedoldi e sono una coach professionista. In questo video mi dedico a rispondere alle domande che gli studenti hanno posto all'interno del ciclo Out of the Box organizzato da iSchool. La domanda di oggi è questa. Qual è la cosa più importante della vita in questo periodo difficile e catastrofico? Siamo senz'altro in un periodo decisamente non ordinario, che ci sfida nella nostra capacità di equilibrio, di centratura, di benessere, di cura di noi stessi e che ci mette molto sotto stress. In queste circostanze è difficile dire che cosa è in assoluto la cosa più importante, però è importante che ognuno di noi lo identifichi per se stesso. Quindi a questa domanda io non ho una risposta che sia valida per tutti, perché per ognuno questa risposta è diversa, ma la faccio a te, esattamente per te, in questo periodo di difficoltà. Qual è la cosa più importante? Sono le relazioni? È il mantenere il tuo equilibrio in un certo modo? È il dimostrare alle persone per te importanti quanto sono importanti? È il sentire di contribuire in qualche modo ad aiutare qualcuno in un momento di difficoltà? Quindi l'idea è che quello che per te è più importante in questo periodo sia nella tua sfera di controllo, quindi che non sia qualcosa che tu ti aspetti dagli altri, ma che quello che per te è veramente importante in questo periodo sia nella tua sfera di azione, sia nella tua possibilità di prendertene cura. Quindi ti lascio con questa domanda che cosa è più importante per te in questo periodo e che cosa puoi fare per aiutarti a prenderti cura di questo aspetto così importante per te. Grazie del tuo ascolto e al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.